Il giorno dopo la sentenza del Consiglio di Cassazione che ha spostato a Roma l'inchiesta prisma quella farlocca ormai, abusiva, perché portata avanti con incompetenza, cioè senza averne competenza territoriale da parte della Procura di Torino che ancora una volta dopo averle prese sul caso doping, la Juventus viene assolta in secondo grado, quindi doveva avere un grande risarcimento da parte dello Stato, perché la Juve avrebbe chiesto un grande risarcimento dopo essere stata assolta in secondo grado. Che cosa fecero? Fecero un provvedimento ad hoc e consentirono alla Procura di andare in Cassazione ed evitare con la prescrizione che la Juventus avrebbe avuto il risarcimento. Questo fu il gioco, altro che Juve prescritta al doping. Fecero un giochetto strano, schifoso, particolare per non dare i soldi di risarcimento alla Juventus, che furono tanti, chiaritelo questo aspetto, perché i cialtroni ancora parlano di doping e prescrizione, quando è tutt'altro. La figura di merda della Procura di Torino sul magistrato tifoso del Torino che ha messo a tacere la situazione di quel giocatore del Torino e questa è una cosa abbastanza vicina. E ora quest'altra figura di merda della Procura di Torino, ma che ha prodotto la vendetta contro la Juventus, cioè la Procura di Torino, agisce solo per essere contraria alla Juventus, per metterla sotto accusa. L'hanno fatta sporca, guardate. L'hanno fatta proprio sporca e l'hanno fatta con il dolo. Ve lo sto dicendo da mesi, mesi e mesi. C'è il reato da parte di Gianoglio, Santoriello e Bendoni, i tre pubblici ministeri che hanno portato avanti l'inghiesto. C'è il dolo. Hanno commesso un reato e questo reato si capisce chiaramente per il modo con il quale è stato poi portato avanti. Altro chiarimento, prima di entrare nello specifico di questo contenuto, che affonderà i colpi sulla malafede della Procura di Torino. Malafede! Sono delle persone in malafede, non possono essere dei magistrati. Sono in malafede e cattivi. La Juventus si è accordata il 31 maggio scorso con la Federcalcio, accettando di non andare al CONI, accettando di non fare altri ricorsi al TAR e bloccando l'azione della Federcalcio, che con le altre inchieste inventate inventate da Santoriello e passate alla Procura Federale avrebbero potuto portare, a mio avviso no, ma secondo com'era il vento, a provvedimenti ancora più di condanna per la Juventus. La proprietà e la società hanno dovuto, ho torto collo, accettare l'accordo con la FGC, non il patteggiamento. Chi parla di patteggiamento in malafede è un accordo che non è il patteggiamento e non è la stessa cosa. Imbecilli, ignoranti che siete. Ancora sento scrivere, dire il patteggiamento, non esiste il patteggiamento nel codice di giustizia sportiva. È come se nel Vancello si parla di omicidio che è una cosa positiva. È la stessa cosa. detto questo, la Juventus ha dovuto accettare in quel momento di accordarsi con la Federcalcio, che metteva fredda, metteva fredda. E ora si si accorge perché metteva fredda. È la stessa fredda che hanno messo quelle della Procura di Torino, ed è di quello che andiamo a parlare. Mentre è scandaloso che per valutare i bilanci della Juventus dal 2019 al 2021, invece di prendere i bilanci e valutarli, e nemmeno lo potevano fare perché sono incompetenti per territorio, non erano competenti per territorio, hanno fatto un abuso, invece di valutare i bilanci facendo il loro lavoro, hanno avuto, a questo punto credo scientemente, una strategia offensiva, come se stessero indagando sui mafiosi, sui camorristi, sui intraghetisti, sulla mala vita, facendo mettere sotto intercettazione almeno cinque, sei dirigenti della Juventus e figure apicali della Juventus. È molto grave. Per valutare due bilanci, o meglio tre bilanci, si mette sotto intercettazione una classe dirigente, un'invasione della libertà incredibile. Ma questo Santorillo, Santorillo, Gianoglio e Bendoni non lo hanno fatto, diciamo solo di propria sponde, ma dovevano essere d'accordo il tribunale, dovevano essere d'accordo anche altre figure all'interno del tribunale. E perché è stato concesso questo modo aberrante di condurre le indagini, di fare invasione di campo? Per valutare due o tre bilanci, metti sotto intercettazione una dirigenza e la tratti come dei mafiosi? È chiaro che c'è il dolo. È chiaro che è un'azione sproporzionata rispetto alla indagine che non potevano fare ma che stavano comunque facendo. Quindi si sono presa tutta, tutta, tutta la confidenza possibile con gli strumenti della legge. A mio avviso è stato un fatto inaccettabile, sì sotto l'aspetto etico, ma anche a mio avviso sotto l'aspetto sostanziale. Per cui secondo me hanno commesso un abuso e andrebbero sanzionati per questo. Non lo dimentichiamo, non lo dimentichiamo mai. Quindi hanno usato una strategia offensiva inopportuna, sconsiderata, vergognosa. Lo devono sapere gli italiani, soprattutto gli italiani che ragionano, non le macchiette da social che pur di dare addosso alla Juve si inventano qualsiasi cosa, non approfondiscono perché non vogliono sapere la verità, perché sanno che la verità è sempre a favore della Juventus. Per cui anche l'autorizzazione delle intercettazioni è stato un fatto di una gravità enorme. Se Bendoni, Gianoglio e Santorillo hanno chiesto l'autorizzazione per intercettare, chi gliel'ha data è complice di questo macroscopico reato che la Procura di Torino ha commesso. È un macroscopico reato. Ricordatelo. E a questo punto emerge il dolo in tutta la sua chiarezza. È un'azione dolosa, scientemente dolosa, quella della Procura di Torino. E lo dimostrano i fatti, i comportamenti, perché nel momento in cui la Procura di Torino ha concluso le indagini e sono state notificate le conclusioni di indagini agli indagati presunti, perché non hanno commesso nessun reato, però li hanno indagati, li hanno messo sotto processo, li volevano mettere sotto processo. In quel momento i legali della Juventus e dei dirigenti della Juventus hanno chiesto la territorialità e lo hanno chiesto alla Procura di Torino, perché in quel momento si chiedeva la Procura di Torino come primo atto. E hanno detto, vedete, non siete competenti nell'ottobre scorso, non siete competenti, non potete indagare, perché la competenza è Milano perché c'è la sede della Consob, o Roma perché ci saranno i server. Subito l'hanno fatto i legali della Juventus. Undici mesi fa lo hanno fatto, quando sono arrivate le notifiche di conclusione delle indagini. E a quel punto cosa è successo? Che con una fretta esagerata, mala fede, una tempistica esagerata, la Procura di Torino nega questa richiesta ai legali della Juventus. I legali della Juventus trasmettono tutto alla Cassazione, che in quel momento già poteva giudicare. Già undici mesi fa la Cassazione poteva arrivare alla decisione che è scaturita ieri, undici mesi fa. In maniera fraudolenta, in maniera schifosa e perversa, la Procura di Torino ha bloccato l'azione della Cassazione facendo subito la richiesta di rinvio a giudizio. A quel punto la decisione passa non più alla Cassazione ma per competenza al GUP. Nel contempo gli atti della Procura, finiti nelle mani del GIP, erano stati rimandati perché secondo il giudice per le indagini preliminari non c'erano chiari motivi di colpevolezza, non c'erano evidenti motivi di colpevolezza e non c'erano i tre presupposti della custodia cautelare, cioè l'inquinamento delle prove, la reiterazione del reato e il pericolo di fuga. Non c'erano nessuno di tutti e tre, ma non si poneva proprio perché si dice che non ci sono chiari riferimenti di reato nell'inchiesta della Procura. E con molta sollecitudine, con una fretta esagerata, che solitamente si passano dei tempi, mentre fanno la richiesta di rinvio a giudizio al GUP e quindi la competenza della Cassazione non c'è più per quanto riguarda la territorialità, lo hanno fatto apposta, perché poteva decidere 11 mesi fa perché se non avessero fatto subito la richiesta di rinvio a giudizio, la Cassazione avrebbe deciso subito il rinvio a Roma. Non c'era bisogno di aspettare 11 mesi, nel frattempo hanno fatto uscire le intercettazioni, taglia e cuci quelli che dicevano loro, per buttare fango e per indirizzare l'opinione pubblica. Altro reato da arresto! Chi ha fatto uscire quelle intercettazioni sono i pubblici ministeri, vanno sanzionati, vanno messi sotto processo, non possono farla franca. La Cassazione naturalmente passa al GUP, il GUP nel maggio scorso per effetto della legge cartabbia rimanda agli atti in Cassazione e la Cassazione decide il 6 settembre, 11 mesi dopo. Nel frattempo, la fretta denunciata dal Tribunale di Torino, dal foro, dalla Camera Penale di Torino, perché tanta fretta sul processo Prisma dicevano al Tribunale di Torino, vi ricordate? E ora la fretta con la quale hanno operato evidenzia chiaramente un rapporto tra la Procura di Torino e la Procura federale, con un'inchiesta della Procura federale già chiusa, le intercettazioni fanno costituire un fatto secondo loro nuovo, aprono il 63 con il 63 a gennaio e danno 15 punti di penalizzazione alla Juventus. Un fatto gravissimo, guardate, un fatto di una gravità esagerata, un fatto che può colpire qualsiasi persona, qualsiasi ente, qualsiasi squadra, se si è sotto la lente di chi ti vuole colpire e non può farlo nemmeno per competenza. E ci sono dei passaggi delicati su questa vicenda, molto delicati, che non possono essere sottaciuti, ma è già difficile per gli addetti ai lavori comprendere i meccanismi processuali, figuriamoci per le persone normali così. La difesa della Juve, come vi ho già detto, subito, nella fase delle indagini preliminari, ha contestato la competenza territoriale, l'ho fatto subito, indicando come competente la Procura di Milano e in subordine quella di Roma, dove poi è stata trasferita l'inchiesta. E non era una questione per perdere tempo o per arrivare alla prescrizione, come ho sentito dire, ma voi pensate che ci sono degli youtuber, stamattina ho sentito un po' Colpo Gobbo, il quale ha detto vabbè, si va alla prescrizione, ma come si va alla prescrizione? Ma come si va alla prescrizione? Questi hanno fatto una boiata del genere contro la Juventus e si parla di prescrizione. Ma quale prescrizione? Scusate. È chiaro che si andrà verso la prescrizione, ma sempre per volere di chi ha messo su questo teatro vergognoso, vergognoso devo dire. È grave, è gravissimo che certe cose possono essere poi affinate da situazioni particolari, no? Mi dispiace, mi dispiace leggere e sentire certe cose da chi dovrebbe difendere la Juventus. Poi si parla pure, entrando nel merito, del caso Orsolini. È stata una delle plusvalenze per la quale si è arrivati alla penalizzazione. Ebbene, quando gli atti della Procura di Torino sono passati alla Procura di Bologna, la Procura di Bologna ha archiviato. Perché invece la Procura di Torino ha fatto mettere sotto intercettazione, ha indagato la Juventus in quel modo? Cioè è una cosa di una particolarità esagerata. stupisce, stupisce il comportamento della Procura di Torino, stupisce purtroppo. Ci fa pensare male, pensiamo male della Procura di Torino, per quanto ci riguarda, l'hanno fatto apposta. E la fede del calcio è complice, è una vergogna, è uno schifo. Vi leggo un passaggio molto particolare. Perché la Procura di Torino, di fronte alla tempestiva contestazione della Juventus e degli altri indagati, fatta oggetto di un rituale ricorso della Procura generale presso la Corte di Cassazione, come ho detto prima, anziché attenderne il rapido pronunciamento a chiuso la fase delle indagini preliminari, rendendo non più esaminabile quel ricorso? Che questa scelta formalmente legittima sia stata però quantomeno poco opportuna e dimostrata in modo invero inoppugnabile dei successivi eventi processuali. Cioè il punto quale è stato? Nel momento in cui, alla chiusura delle indagini preliminari, 11 mesi fa, la Juventus chiede e gli indagati chiedono di cambiare la territorialità e lo fanno alla Cassazione. Perché la Procura non ha atteso la pronuncia della Cassazione e invece ha proseguito chiedendo rinvio a giudizio, rendendo vana appunto la competenza della Cassazione in proposito? Questo è il passaggio chiave e ve l'ho detto in dieci mesi, ve l'ho detto cento volte in questi dieci mesi. Cento volte è lì il peccato, è lì l'azione peccaminosa, è lì l'azione di malafede, è lì l'azione controversia della Procura. Perché nel frattempo immettevano le intercettazioni, in sintonia con la Procura federale, riaprivano il caso sportivo e penalizzavano la Juve. Tutto ad arte, tutto vergognosamente ad arte. Sono dei fetenti, sono dei farabutti. Guardate, sono dei farabutti. Hanno agito in malafede e con una chirurgica situazione per colpire la Juventus. È scandaloso quello che hanno fatto, è vergognoso. È fuori da ogni libertà giuridica di un indagato piuttosto che di una situazione messa sotto inchiesta. È grave. Già con le intercettazioni hanno fatto un abuso, un'invasione di campo enorme. Poi con questi artefizi che non hanno nulla a che vedere con l'etica professionale. Hanno agito da cannibali. Si sono messi sotto i piedi la giustizia, anche se il loro operato alla fine risulta legittimo. Perché? Perché hanno fatto la richiesta di rivia giudizio per bloccare la Cassazione 11 mesi fa. Ma la deontologia dov'è? Ma soprattutto il garantismo dov'è? Quando ci dicono che la legge italiana è piena di garantismo, ma quando si trovano gente come Santoriello, Gianogno e Bentoni, come la Procura di Torino, il garantismo, la garanzia per un indagato è messa sotto i piedi. Una vergogna quello che hanno fatto. Uno schifo, uno scandalo. Una cosa scandalosa. Mi fermo un attimo. Aspettate. Sono arrivati ad un punto di massacro intellettuale verso la Juventus senza uguali. Nella storia della giustizia non esiste mettere sotto intercettazioni con soldi pubblici una società di calcio per valutarne i bilanci. Ma stiamo scherzando? È un caso unico al mondo, raro. E tutto si spiega nelle parole di Santoriello. Odio la Juventus. E il resto che poi ha detto, le porcherie che ha detto. È uno di questi. Poi giustifica tutto questo comportamento. Dov'è l'etica di un magistrato? Dov'è l'etica? Dov'è la giustizia? Ma siamo in mano a questa gente in Italia? Siamo in mano ai Santoriello, ai Gianoglio, ai Bendoni. Ma si rendono conto dello schifo che hanno fatto? Ma si rendono conto? Di quale vergogna? Si sono tolti lo sfizio. Hanno cacciato la Juventus dall'Europa. Si sono tolti lo sfizio. Perché poi quello è lo sfizio. Non far andare la Juve in Europa, bloccarla di 100 milioni di euro. Ma la Juve ha mille risorse. La Juve rinasce sempre. La Juve non muore mai. È morta la giustizia. È morto Santoriello. È morto perché chi si pecca di questi reati, perché questo è un reato, immettere le intercettazioni è un atto fraudolento. Con Santoriello muore la giustizia in Italia. Santoriello può vivere altri 100 anni. Lo hanno sbattuto alla procura di Udine con la scusa di una promozione, perché l'hanno fatto sostituire a Cuneo. Sostituto procuratore va ad indagare sulle nocelle, sulla raccolta delle nocelle. Ma come uomo magistrato è morto dopo quello che ha fatto. Gianoglio e Bendoni sono morti per quello che hanno fatto. Ci sono prestati ad un gioco perverso, ad un gioco scandaloso. Ci sono prestati ad un'arrogante vendetta personale. Perché tifosi del Napoli è una gravità enorme quello che hanno fatto. È un reato. a mio avviso non so. Non so, a mio avviso, se possono essere, credo di sì, se possono essere perseguiti a norma di legge. Credo di sì. Perché ci sono degli atti molto particolari. C'è il dolo, c'è perché tu sai di non essere competente. La Juve ti dice che tu non sei competente. Tu fai allungare i termini in maniera scientifica. Poi butti le intercettazioni all'opinione pubblica, che è un reato gravissimo. Il reato non è della stampa che le ha pubblicate, ma è dei magistrati, della procura di Torino che le ha fatti venire fuori. Un atto grave che a mio avviso va perseguito a norma, di legge. Non scherziamo quello che è stato fatto questa volta, di una gravità enorme, questa volta, quasi sempre. Quindi bisogna stare attento. Non so se la Juventus può chiedere i danni. Non lo so. Penso più no che sì. Però nella... non ne capisco. Spiegatemelo, qualcuno me lo dica. Ma è una cosa di una gravità enorme. È grave. Guardate, è grave per la giustizia italiana. È grave per i cittadini. Io credo che Nordio dovrebbe chiedere, dovrebbe mandare subito, ma subito, senza perdere tempo, gli ispettori al Tribunale di Torino, alla Procura di Torino. La politica non può nascondersi. Abbodi deve prendere provvedimento. Il ministro della giustizia deve prendere provvedimento. Non è possibile che può passare sotto traccia un'ingiustizia del genere, una forzatura del genere, un abuso di potere del genere. Non è possibile. Bisogna fare qualcosa. Qui c'è in gioco il diritto. Non la Juventus più. La Juve è passata in questa fase. C'è in gioco il diritto. C'è in gioco la garanzia delle persone. C'è in gioco la serietà della magistratura italiana. Non scherziamo. Non si può scherzare. Qui si scherza con la libertà, con la vita delle persone. Avevano questi delinquenti. Avevano chiesto l'arresto per Agnelli. Ma dove sono arrivati? È scandaloso. Non è possibile. Quello che hanno fatto è grave. È molto grave. Non può passare inosservata questa vicenda. Non deve passare inosservata. Hanno agito da delinquenti. E mi fermo qui, ma ci torno. Ci torno perché non è possibile che può passare inosservata. Fate girare questo video se lo ritenete opportuno. Iscrivetevi al canale. Mettete un like. E fate un commento. Cacciate le palle. Fate un commento. C'è in gioco la giustizia. C'è in gioco la giustizia. Non più solo la Juventus. Che passa questo punto in secondo ordine. Grazie a tutti quanti voi. Alla prossima. Grazie a tutti.